Tutti gli strumenti, ma a proposito di strumenti, allora, io mi ricordo per esempio di quattro ragazzi, però, ma il pianoforte è più cattivo, io mi ricordo il primo pianoforte che entrò a casa mia. Io, mio padre e mia madre andammo con il maestro di pianoforte a Sora, il paese di Vittorio De Sica e anche di Anna Tadangelo e con le cambiali firmate da mio padre scegliamo un pianoforte Schultz-Pullman e io, con la morte nel cuore, perché lui disse, il maestro dice questo è il pianoforte giusto per Claudio Ciovostro e sottolineò questa cosa, sì. Però a me fecero tenerezza tutti gli altri pianoforti che restavano lì senza di me, come quando vai a prendere un cucciolo di animale, come così, e ho detto adesso questi come faranno senza di me? Il tuo pianoforte... Ma mazza, non sei così poetico, tutte queste cose... Io me la son venduta bene, il tuo com'è arrivato? Non so, non ho parole. Il tuo com'è arrivato? No, il mio è arrivato, che ce l'avevo a casa, capito? Mia madre suonava malissimo, sto cavolo del pianoforte, e mi suonava sempre lo studente passa, che è una cosa tremenda, pip, 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 una cosa... Che non passava mai? Non passava mai e poi ti faceva passare la voglia di suonarlo, sto pianoforte. Dopo è stata una croce, no? Perché tu suonavi la chitarra, anche io no, io non ce la faccio proprio. Non ti sei evoluto. Non mi sei evoluto. Ecco, questa è l'evoluzione della specie del piano è lui. Io invece non mi sono evoluto, sono rimasto con questo cavolo di pianoforte che non c'era mai. Perché noi suonavamo al folk studio, dove... Cioè io e Claudio ci conosciamo dal 70. Ma qualche mese fa. Ma qualche mese fa. Ma è una cosa recente, non ridete, è proprio recente la competenza. Allora, e quindi io c'avevo il problema del pianoforte in un mondo di chitarristi, perché tutti suonavano la chitarra fingerpicking e io mi sono dovuto inventare un modo per suonarlo. E alla fine... Che dove ero rimasto? Niente. No, nel senso che insomma... Se non ne passava uno, qua ce ne stanno due. Eh, appunto. Ma ti va se saliamo sopra? Ma molto volentieri. Ma come no? Eh allora, dai. Siamo qui per questo, vero? Quale vuoi? Quello bianco, quello nero? Quello nero. Io in onore a te scelgo il nero. Grazie. Io scelgo quello bianco. Ok. Se lo vuoi lo dai a me. Questo me lo porto a casa, sì. Ma adesso c'è una sorpresa per voi. Nessuno immaginierà mai la canzone che andremo a fare. Quale potrà essere? Se riesce è una bomba. Se non riesce... O non bomba. O non bomba. No, ma fa così questa la dovete cantare tutti, eh? No, ma fa così. No, ma ho mai fatto. Non riuscire. I ragazzi con la chitarra, con un pianoforte sulle spalla, come pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra, ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare degli avvocati, le bolle, le sei non fanno male. E' solo il giorno che muore, e' solo il giorno che muore, i sogni sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza, Tuo padre sembra Dante, e tuo fratello Arias, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo più, da una settimana. Maturità, l'avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno, e fitto il tuo mistero. Il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani, non ho un fermare, ti prego le mie mani, sulle tue cosce tesi, chiese come le chiese, quando ti vuoi confessare. Notte prima dell'esame, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberoni in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora ora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde, di calzoni, notte di sogni, di coppe, dei campioni, notte di lacrime e breviere, la matematica non sarà mai il mio bestiaire. Notte di giovani attori, di pizze fredde, di pizze fredde, di pizze fredde, di pizze fredde, di pizze fredde. Notte di giovani attori, di pizze fredde, di pizze fredde, di pizze fredde, di pizze fredde, di pizze fredde. Notte di giovani attori, di pizze fredde, di pizze fredde, di pizze fredde, di pizze fredde. Notte di giovani attori, di pizze fredde. Antonello Venditti. Antonello Venditti e Claudio Baglioni.